Il presidente Truman l'ha scelta per guidare una missione di massima segretezza. Sì, signore! Dove incontreremo la scorta? L'incarico è top secret. Non avrete una scorta. I giapponesi sono avversari estremamente disciplinati, signore. È una missione suicida. Avanti tutta. Fuori! Abbandonare la nave! Abbandonare la nave! Non lasciarmi qui. Non ti lascio. C'è qualcosa laggiù! Leo, aiutaci! Fuoco! Ci sono uomini ovunque! Capitano McVeigh è accusato di aver messo la nave a rischio. Come si dichiara? Non colpevole. Via, via! 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 USS Indianapolis Dal 19 luglio al cinema koal Sao